ragazzuoli questo video in realtà non era neanche previsto perché avevo già fatto tutto stamattina ma invece no invece no c'è il genio c'è il lampo di gene c'è il cambiamento c'è la novità last minute in occasione di lazio juve si sperimenta qualcosa di nuovo e per certi versi vi dico anche che questa non è una cosa negativa è la cosa che ho criticato ad allegri anche nel video di stamattina il piattume l'assenza di una sterzata di una decisione di un qualcosa che potesse cambiare no quel continuo trascinarci in campo quel 352 piatto che non dava più nulla si cambia modulo si cambia e si cambia anche negli interpreti che è la cosa più importante parliamo della formazione pre lazio juve ne parliamo insieme e non vi nascondo comunque che la preoccupazione non passa al di là dei cambiamenti prima di iniziare ci tenevo ovviamente a sapere la vostra opinione sotto nei commenti ci tenevo a invitarvi iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto è importante ragazzi il sostegno e volevo dire prima di iniziare anche sul discorso della formazione due paroline su un qualcosa che sta accadendo sui social c'è una cosa che mi dà fastidio in particolare vabbè su twitter che io reputo il social che una discarica ce l'ho aperto che ormai è popolata anche da gente che sui social non ci sa stare non ci sa stare ma si vede anche da qua eh per esempio nel video di acerebi uno mi ha scritto se un ciccione qualcosa di simile poi aggiunto qualcos'altro che poi vabbè io non sto in forma è per ciccione ciccione non lo so ma al di là di questo questo tipo di violenza verbale non mi piace Luca Toselli per esempio non è stato vittima oggi su twitter volevo consigliare una cosa pubblicamente vai denuncia querela perché un tipo ha scritto lo vorrei picchiare fino al punto che la madre quasi non lo riconosca più dalle botte che gli do parte mi sembra la classica persona che chi l'ha scritto se vuole uno schiaffo ne prende ben tre così in una rissa piccoli dettagli e piccoli pensieri però ci sta la critica sul contenuto anche feroce hai detto una sequela di cazzate ci sta io queste cose ragazzi me le lascio scivolare perché fa parte del nostro del nostro mondo no la critica facciamo i contenuti veniamo criticati per quello che diciamo ci sta non si può andare ecco con tutti d'amore d'accordo inevitabilmente una parte la contenti una parte la scontenti ci mancherebbe però nei commenti si può andare nel merito si può dire per me detto una cazzata per questo motivo questo motivo questo motivo ci sta anche la critica più feroce nei modi l'importante è non scadere mai nell'insulto addirittura nella minaccia che è quello che è accaduto a Luca quindi a Luca massima solidarietà e mi auguro che vada avanti che si informi con un avvocato se ci sono gli estremi per le querele che vada a quellare questa gente qua perché questo qua questa persona qua che ha criticato Luca è una persona che già da tempo ha un certo livore anche nei miei confronti perché spesso ha insultato anche me e quindi sarei veramente felice di un Luca che va avanti con questa cosa insomma avessi minacciato a me anche io probabilmente avrei scelto di informarmi con un legale su tutte le cose che ho a mia disposizione però insomma non voglio tediarvi su questo argomento però è importante che capiate che la critica è ben accetta l'importante è che non si scada sul personale a perché mi conoscete solamente per la Juve non per altri aspetti personali di vita di lavoro mi conoscete solamente per la Juventus e possiamo essere d'accordo o no ma rimane una piccola fettina della nostra personalità e del nostro mondo per cui ripeto insulti personali sono da evitare così come le minacce addirittura quelle al di là ci conosciamo meno detto ciò torniamo a noi e parliamo della formazione si gioca ragazzi con il classico modulo allegriano del 4 4 2 storto barra 4 3 3 per cui una scelta un po più coraggiosa rispetto al classico 352 volto a non prenderle che ultimamente non stava neanche funzionando più di tanto la cosa mi lascia un po perplesso sono ovviamente gli interpreti ci sono dei cambiamenti perché qualcuno si siedere in panchina e non si tratta ovviamente di il dis cioè scusate di healing junior che non giocherà lo sapete anche voi l'anno che healing era destinato a non giocare e anzi era un po adiratto per via della presenza di desciglio in campo dal primo minuto perché è una partita importante perché è un peso specifico importante questa gara buttare dentro un giocatore che viene da un lungo infortunio non abbiamo prova effettiva di quel che può dare riuscirà ad essere un giocatore determinante questa gara io ho i miei dubbi ho i miei dubbi poi la storia di desciglio allegri è un po strana è perché allegri si trascina questo terzino che a mio parere non è nulla di eccezionale da ormai dieci anni bravissimo ragazzo mattia bravissimo ragazzo non ho nulla da dire alla persona perché traspare veramente una persona dalle interviste una persona tranquilla pacata non ho nulla da dire però il calciatore ragazzi non è da juventus perdiamoci chiaro anche il rinnovo fatto a un e mezzo no io ero contrario ma dettagli quindi lazio juve juventus in campo con una sorta di 4 3 3 barra 4 4 2 storto che vede tra i pali scesni e fin là nulla da dire danilo terzino a destra bremer e rugani difensori centrali desciglio scusate danilo a sinistra desciglio a destra centrocampo composto da miretti locatelli rabbio che farà insomma l'esterno barra mezzala a sinistra cambiasa a destra e poi davanti ken e chiesa questa è la formazione cambiata io non so ragazzi che dirvi sono scettico parecchio scettico già dalla partita fino dal principio perché veniamo da un momento di crollo eccetera ma questa questa formazione qua ed è sci a me una roba che non riesco a essere positivo non ce la vai più forte di me ci provo non lo so non so cosa aspettarmi non so se con questa colliamo veramente a picco perché una sconfitta con la lazio significa che stai colando a picco e c'è qualcosa da fare ed oggi è importante anche capire al di là del risultato negativo eventuale se c'è una società dietro se c'è qualcuno che si fa sentire cosa verrà detto a fine partita cioè sono queste anche le cose che voglio considerare poi benissimo se torniamo con una vittoria fantastico fantastico sarebbe una cosa meravigliosa meravigliosa ma io ragazzi vi dico anche che se fossi nei panni della juve vedo che c'è crisi scricchio lì sti cazzi di tiago motta che sarebbe stato l'allenatore numero uno vado sulla scelta numero due vado su antonio conte caccio allegri e do una sterzata questa stagione anch'io perché veramente c'è un piattume e un senso di resa nell'aria che mi fa paura e mi fa spavento questo è io ragazzi però sono curioso di leggere le vostre opinioni sotto nei commenti perché questa è una partita chiave una partita fondamentale per tante ragioni una Lazio che trova di nuovo Luisa Alberto che ho detto occhi alla pretattica dovrebbe essere titolare una Lazio molto particolare anzi andiamo a leggere subito la formazione la commentiamo insieme ma una Lazio che troverà sicuramente tante energie nervose interessanti perché perché ragazzi con Tudor c'è quell'iniezione di fiducia poi lo stesso Tudor ha parlato bene nel senso ha detto bene all'inizio è normale ci dobbiamo conoscere c'è entusiasmo c'è voglia ma ma la forza di un gruppo si vede sul medio lungo periodo è come dargli torto anche no la Lazio invece dovrebbe giocare con andiamo subito a vedere portiere Mandas poi difensore Gila che sta facendo una grande stagione Romagnoli e Casale quindi difesa a tre esterno destro Marusic centrali Gendusi Cataldi poi Felipe Anderson esterno sinistro trequartista di destra Luisa Alberto trequartista di sinistra Zaccagni e attaccante Ciro Immobile questa è la formazione probabile della Lazio vedremo se poi verrà confermata noi ci vediamo nel post partita con la speranza di non bestemmiare ma di essere qui a dire ah critiche preventive pane ha avuto ragione Allegri spero che abbia ragione lui con tutto il cuore perché a me di avvedervi ah avevo ragione è una rosicata in realtà è una rosicata perché il risultato è la cosa più importante ciao belli e ormai che cazzo vogliono salvare le prestazioni no i risultati fine non c'è null'altro da aggiungere